Durante gli ultimi giorni Suri ha postato al suo canale YouTube un video che però non è andato come doveva e infatti si è rimosso subito dopo I video in sé di fatti era praticamente una truffa dove Suri sponsorizzava questo sito con tanto di link nella descrizione del video In cui si compravano queste mystery box e si potevano vincere dei prodotti a poco prezzo Ovviamente per la sponsor l'account di Suri sembrava palesemente gustato Dico sembrava perché chiaramente non c'è nessuna prova certa Però giocando nel video ha vinto in pochissimo tempo delle airpods, un iphone e tantissimi prodotti costosissimi senza aver nessun tipo di problema Il video è stato poi chiaramente rimosso e Suri ha chiesto scusa nelle stories Non aggiungo altro quindi non vi lascio filmati Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea a studio Io vi è riuscito un video, non è stato, cioè l'ho cancellato io Piccola scivolatina lato times of service Il mio team mi ha informato che non era propriamente, propriamente idoneo Quindi chiedo scusa, chiedo venia, l'ho eliminato e nulla, tutto qua Ci vediamo nei prossimi giorni con dei buoni video Ciao